Te rime ribate giornate leggi haibe sabar saan cette giornate leggi haibe fiker shaane Eh eh hum ha de Aysi mula kape Hooti nahi aiitt ufaak ou che Ko'i milta nahi yun hii khayyal東西 Siamo un uomo a 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